Now Now, quando nasce un'opera d'arte, è la mostra che Casa Testori quest'anno presenta per il meeting di Rimini. È idealmente la terza tappa di una trilogia che era iniziata nel 2015 con la mostra che presentava l'arte contemporanea con grandi autori. Poi abbiamo portato nel 2017 le opere vere. Quest'anno cosa facciamo? Entriamo nella sala macchina, nella sala parto. Facciamo vedere quando nasce un'opera d'arte. Che cosa succede? Sei giovani artisti verranno al meeting e trasferiranno i loro studi d'artista proprio nei padiglioni della fiera. I visitatori potranno assistere al momento della creazione dell'opera d'arte. Ci sarà la fotografia, la scultura, la pittura e ciascuno porterà un progetto che verrà svolto durante i sette giorni. Quindi potremo vedere veramente l'attimo in cui nasce l'opera d'arte. Cosa vedremo quest'anno al meeting? La magia della nascita di un'opera. L'opera nasce da cosa? Da un lavoro. Per cui non a caso la mostra Now Now di Casa Testori è inserita nel contesto, nel padiglione di cui si parla di lavoro. Perché l'artista lavora, accumula competenze, accumula conoscenze, sperimenta. Poi fa scattare quel fattore imprevedibile che è la nascita di quello che non era stato messo in conto, cioè l'opera d'arte. È sempre un imprevisto ed è una cosa sempre nuova, una cosa che nessuno aveva messo nel conto e che nessuno aveva visto prima. Al meeting sperimenteremo questa novità nel suo farsi, nel suo attuarsi.